Uomini e donne oggi, 8 novembre, Cristian delude Virginia. Lei va via. Tutte le anticipazioni della puntata dell'8 novembre. Guai per Cristian forti oggi. Mercoledì decisamente pepato a uomini e donne. Maria De Filippi tornerà come sempre a colorare il daytime pomeridiano di Canale 5, dalle 14.45 alle 16.10, per dare poi la linea al daily di Amici. Al centro dell'attenzione questa volta dovrebbero esserci i due tronisti. Ieri infatti l'attenzione in puntata è stata catalizzata da Elena Di Brino e Maurizio Laudicino alle prese con una lite infuocata generata dalla gelosia della dama per via del bacio a stampo dato a Barbara De Santi. Oggi si tornerà a parlare di Brando e Cristian. Quest'ultimo in particolare sembrerà sempre più indeciso tra Virginia e Valentina. Queste altalene emotive però finiranno per spingere una delle corteggiatrici ad andare via dal programma. Cristian Forti non porta in esterna Virginia. Lei lascia il programma. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che nella puntata di oggi, mercoledì 8 novembre, si continuerà a parlare di Elena e Maurizio. La dama è apparsa molto più coinvolta di lui. Nonostante la conoscenza sia ancora all'inizio. A quanto pare per il momento i due protagonisti del segmento senior decideranno di proseguire la loro frequentazione e valutare come evolvono le cose. Le anticipazioni dell'ultima registrazione del programma svelano però che presto lasceranno lo studio insieme. Per quanto riguarda il trono classico, in ombra nella prima parte della settimana, oggi sarà chiamato a centro studio il tronista romano. Racconterà di aver scelto inizialmente di portare in esterna Virginia poi. Vedendo che Valentina ci era rimasta male. Ha cambiato idea. Una decisione che ha finito per allontanare la sua corteggiatrice storica che oggi in puntata lascerà il programma. Il ragazzo la raggiungerà dietro le quinte per chiarire con lei. Riuscirà a convincerla a tornare in studio? Le anticipazioni di uomini e donne di oggi. Brando indeciso. La scelta slitta ancora per lui. La confusione regnerà sovrana nel trono classico oggi in puntata. A quanto pare infatti non sarà soltanto Christian Forti ad essere indeciso tra le sue due corteggiatrici. Ma anche Brando. Il 22enne in settimana è uscito infatti sia con Beatriz. Tornata di recente nel programma. Che con Raffaella. A quanto pare con entrambi si sarebbe creata l'intimità giusta per far scattare un bacio. Ovviamente i baci incrociati non piaceranno alle due corteggiatrici che reagiranno male. L'appuntamento perciò con le peripezie sentimentali di Dame, Cavalieri, Tronisti e Corteggiatori è per oggi pomeriggio. A partire dalle 14.45, su Canale 5. Stay tuned.